Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia. Prima di ascoltare cosa ha detto Monsignor Viganò su Klaus Schwab e la sua partecipazione al B20 e G20 e riguardo ai piani futuri del World Economic Forum, permettetemi una breve considerazione. Per contrastare la falsa propaganda del mainstream ci vuole un'efficace contropropaganda, consapevoli delle disparità in campo e che in fondo è un po' come per un giovane Davide combattere contro il gigante Golia, è quindi necessario comprendere che la partita si vince giocando con intelligenza, consapevoli che la verità è dalla nostra parte e, per chi è credente, Dio è con noi. Indipendentemente dalle idee di ciascuno in merito a credere o meno in un creatore onnipotente, è evidente che la psicopandemia si basa non su fatti scientifici, ma su dogmi di fede. Quindi a coloro che credono per fede alla narrativa maestrima sul virus impronunciabile, possiamo porre la voce di ecclesiastici che su questa materia hanno ben compreso la verità, confidando che il loro numeroso gregge ascolti e si convinca di quanto dicono. Interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di YouTube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 150.000 iscritti, confermandoci così il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram, mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby